Siamo a Sportorno, al cimento invernale di Sportorno. Siamo presenti parecchi nuotatori, oltre che moltissimi cimentisti. Oggi è il 30 di dicembre, sempre estate, il nuoto in mare continua e noi non ci fermiamo mai. Auguri a tutti. Grazie, Frank. Grazie a tutti. 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 Continuerà certamente, sempre più grande perché i numeri dei partecipanti crescono di anno in anno, quindi veramente un grazie a tutti. Ho visto anche che ci sono diversi dipendenti comunali che hanno partecipato alla manifestazione e si sono buttati in acqua. Mi auguro che li tonifichi maggiormente, sperando che invece non faccia il contrario, che magari prendano qualche raffreddore. Un altro anno ci vogliamo che il sindaco... Proviamo, proviamo, ci penseremo, faremo degli allenamenti semmai. Comunque grazie a tutti e speriamo un 2013 un po' più con l'aria respirabile, speriamo. Le previsioni non sono molto buone ma siamo ottimisti. Grazie a tutti e auguri. Grazie a tutti e fra poco cominciamo le premiazioni. Aspettiamo ancora che gli ultimi ritardo a andare che si vestono e poi cominciamo le premiazioni. Grazie a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti.